E' con piacere che voglio un applauso per l'amico Pierluigi Buratti il giudice del Supreme Best in Show grazie Allora siamo pronti abbiamo quattro soggetti qui presenti il vincitore del Best in Show di ieri il Maltese signori applausi grande finale Maltese vincitore del Best in Show di ieri ha vinto il Best in Show il Maltese con Andrash Korosh ieri ha vinto il Best in Show oggi con Tina Taulos il Pomerania il vincitore del Best in Show giovani English Staffordshire Bull Terrier il vincitore del Best in Show veterani Alaska Malamut quattro bellissimi soggetti facciamoli ancora un applauso i vincitori i quattro finalisti su 2800 cani che abbiamo visto durante il weekend Siamo alla finalissima Supreme Best in Show giudicato dal giudice italiano rounder Pierluigi Buratti presidente del CIRM club italiano razze nordiche Applaudiamo i nostri finalisti Maltese Pomerania English Staffordshire Bull Terrier e l'Alaska Malamut sarà poi lo stesso giudice a consegnare la cocarda del Supreme Best in Show al vincitore assoluto di queste due giornate chiamo i collaboratori del Kennel Club Roma a venire sul podio per premiare il Supreme Best in Show di queste due giornate i collaboratori di del kennel club roma premieranno insieme al agli amici del gruppo cinofico capitolino e poi chiamiamo sul podio il nostro main sponsor rappresentante rappresentato da rudy baldi breeder manager della monge che è stato il nostro main sponsor a cui vanno i nostri ringraziamenti e un forte applauso monge il pet food che parla chiaro claudia gerardi per cortesia sul podio grazie grazie ancora a tutti grazie per averci sopportato grazie per averte esposto ai nostri cani grazie per rispettarli grazie per amargli i nostri amici a quattro zampe i nostri cani i nostri beniamini grazie a tutti supreme best in show della doppia internazionale di roma due giornate cinofile condotte dal kennel club roma insieme al gruppo cinofilo capitolino e adesso pierluigi buratti coronerà il vincitore assoluto di queste due giornate cinofile che sarà il pomerania grazie grazie tutti al podio per la foto all people all judges to the podium for the last picture thank you gruppo cinofilo capitolino kennel club roma tutti al podio grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.